... Noto difficile a Cavatigozzi, famiglia sveglia anche fino alle 3 del mattino in una zona della frazione di Cremona più esposta ai rumori delle Alciaieri e Arvedi. Di nuovo boati e soprattutto un continuo rumore di fondo che ha indotto di nuovo alcuni residenti a segnalare all'ARPA il disagio. L'azienda siderurgica ha provveduto a presentare al settore ambiente dell'amministrazione provinciale un piano di risanamento acustico. Proprio quel documento consente ora di presentarne un altro di importanza tutt'altro che trascurabile. L'acciaieria infatti ha richiesto per la seconda volta l'aggiornamento dei dati di produzione senza bisogno di costruire impianti nuovi bensì utilizzando nel modo più proficuo i mezzi già a disposizione. Attualmente per la regione e la provincia Arvedi a Cremona è autorizzato a produrre 2 milioni e 407 mila tonnellate di acciaio. La sua richiesta è di aggiornare il dato a ben 3 milioni e 142 mila 590 tonnellate. Un incremento reso possibile soprattutto dal nuovo forno fusorio è entrato in azione grazie al raddoppio dell'industria e l'organizzazione del lavoro e delle apparecchiature tecnologiche che tagliano molto tempi morti. L'azienda è più rapida, intensa ed efficiente e anche più rumorosa. L'amministrazione provinciale nel dicembre 2013 aveva respinto questa proposta di aumentare i dati della produzione appunto perché mancava il piano di risanamento acustico approvato a giugno e ancora sottoposto a una nuova fase di verifica e monitoraggio. L'azienda siderugica ammette l'esistenza di alcuni problemi. Il progetto preliminare, redato da Alessandra Barocci, riconosce la vulnerabilità medio-alta della prima falda che si trova a circa 6 metri sotto il piano campagna. Gli scarichi dell'impianto siderugico sono ancora destinati alla roggia malazzina tombinata sotto l'acciaieria. E infatti, come riconosce il progetto, l'aspetto più critico riguarda la presenza di molti corsi d'acqua. In poche centinaia di metri coesistono la rete fluviale del Po e del Morbasco, oltre a canali artificiali o no, a scopo irriguo di trasporto. Altro aspetto critico è il fatto che Cremona e Spinadesco risultano ancora inserite dalla regione in zona di risanamento A1 per l'inquinamento dell'atmosfera. Inoltre, aumenterà il consumo idrico ed energetico. La vicinanza degli spiaggioni, sito di interesse europeo, non è un problema né per la regione Emilia né per la provincia di Cremona. Nemmeno preoccupa il fatto che l'impianto sorga tra due rami del parco di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco. Una prova di notevole importanza aspetta quindi all'ARPA e all'amministrazione provinciale, oltre che ai comuni di Cremona, Spinadesco e Sesto ed Uniti, anch'esso interessato dai rumori. Grazie per la visione!